Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo ai funerali di Monsignore Grazio Labbiso celebrati questa mattina in una cattedrale gremita in ogni ordine di posto le esegue sono state ufficiate dal Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina era presente tutto il clero, c'erano le più alte autorità e da Palermo è giunto anche il Presidente della Regione, Rosario Crocetta Una cattedrale gremita ha dato oggi l'ultimo saluto a Monsignore Grazio Labbiso una marea di fedeli ha voluto rendere omaggio a quello il quale è stato l'emblema della Chiesa in città la messa è stata ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina Monsignore Rosario Gisana, allo suo fianco tutto il clero della Diocesi in città è giunto anche il Presidente della Regione, Rosario Crocetta c'erano i deputati del territorio, le massime autorità, il Sindaco Domenico Messinese c'erano anche tanti giovani e tanti anziani c'era la città di Gela che ha sempre voluto bene al parroco potente con i forti, sensibile con i deboli il fratello Grazio, ha detto il Vescovo Gisana, era testimone della sua storia e delle sue contraddizioni ma si sentiva amato e perdonato da Dio, come uomo e come prete era un uomo aperto, testimone della sua storia un uomo sincero, discutibile forse su alcune cose, ma su altre no siamo contraddittori nei pareri, anche noi stessi lui ascoltava la parola di Dio e si esponeva al popolo era il riverbero del volere di Dio nella servire la gente nelle sue parole, al di là dei contorni, c'è stata sempre la parola di Dio questo, ha continuato il Vescovo, dovrebbe insegnarci ad essere prudenti nel modo in cui giudichiamo i preti distinguiamo le parole umane e le parole di Dio giudicate anche me, nella debolezza delle parole umane il fratello Grazio ha scelto il Salmo di Geremia nel suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio a Ripeturo Gisana Monsignore Grazio Labbiso era nato il primo febbraio del 1941 fu ordinato sacerdote l'11 agosto del 1963 nel 1976 ricevette l'incarico di Vicario Foranio della città di Gela e alla città gelese ha dato tantissimo fino all'ultimo anche quando le sue condizioni di salute erano precarie ci lascia un grande uomo, un pastore della chiesa che non ha mai avuto alcuna titubanza quando c'era da prendere delle decisioni decisioni forti e quel suo carattere, quel suo carisma hanno indotto tutti a volerlo bene Monsignore Labbiso ci ha lasciato nell'anno del giubileo straordinario della misericordia suo pensiero fisso durante le omelie, le feste patronali e quelle comandate si è spento di domenica, nella Domenica del Signore il ricordo che ho di Monsignore, di questa sua passione veramente civile questa sua capacità di essere referente della città di interpretarne in qualche modo l'anima, i bisogni a volte anche scendendo in gambe anche con polemiche rispetto alle cose io per quello che mi riguarda non posso che esaltare l'uomo, il sacerdote il sacerdote che è obbediente e che pretendeva l'obbedienza ma anche l'uomo impegnato che voleva che si batteva per la città io devo dire che insieme ci siamo trovati, lui da Monsignore, io da sindaco, primo assessore in una fase difficile della città quando il contrasto con la criminalità mafiosa era tremendo, difficile e devo dire che in quella circostanza Monsignore ebbe parole chiare anche di condanna di episodi di violenza e quindi la necessità anche di una redenzione della città credo che sia stato un grande uomo e un grande sacerdote un uomo, una persona che non giudicava mai nessuno che gli sapeva includere, tollerante, aperta e rispettosa e con questa stessa logica che noi lo salutiamo sapendo che è stata una persona che si è fatta volere bene Ci ha lasciato un uomo di grandi valori, Monsignore Labbiuso è stato un punto di riferimento per tutti, hanno detto coloro, i quali lo hanno conosciuto I ricordi sono moltissimi, io sono entrato qui in Chiesa Madre quando avevo sette anni quindi sono cresciuto con l'esperienza sua, sono cresciuto con tutto quello che è i suoi insegnamenti, le sue ammunizioni, la sua guida sapiente e saggia questa è l'esperienza più bella che mi porto, i ricordi appunto sono moltissimi che conservo nel mio cuore e soprattutto adesso che ho finito di essere figlio ma che sono chiamato a diventare padre i ricordi della sua esperienza sacerdotale come maestro e guida mi guideranno e mi sosterranno in quelle che sono le difficoltà gioiose del ministero che il Signore mi chiama a svolgere là dove Lui vuole questo è quello che mi riempie di gratitudine e di grazia al Signore per tutto quello che mi ha concesso e tutto quel tempo che mi ha dato di poter stare accanto a Lui come stretto suo collaboratore io la cosa che gli dicevo, dico adesso dato che il Vescovo mi ha indirizzato alla responsabilità di una guida di una parrocchia gli dicevo io non ce la faccio solo perché dico questa è la mia prima esperienza del parroco quindi non riesco a essere, da solo non ci riesco e Lui dice non ti preoccupare ti guido io, tu metti in mente quelli che sono stati gli insegnamenti del chi, come e quando per poter avviare la programmazione e questo con il tuo contributo e con l'aiuto del Signore vedrai che potrai fare cose grandi questo è il mio grazie che dico al Signore per avermelo donato e questo mio affetto filiale che mi porterò per sempre come ricordo indelebile nel mio cuore una persona con la quale ho scambiato dono di un'intensa amicizia personale e sacerdotale un uomo di grande intelligenza, di grande capacità di dedizione una persona capace di sapere leggere e interpretare il momento storico che abbiamo vissuto che viviamo e anche capace di fare orientamento e in questo tempo dove forse tutto è diventato più difficile per chi ha un'autorità viverla come servizio e assumersi le responsabilità di quello che si fa anche scontentando credo che sia un grande messaggio di umanità che vada per ciascuno di noi un grande senso di gratitudine che come comunità ecclesiale, come comunità di Gela Monsignor Grazio dobbiamo manifestare non c'è stato soltanto come presenza ma è una presenza che lascia un segno un segno profondo, un segno buono, una bella eredità da raccogliere Se ne aveva un amico, un padre e un insegnante anche se nel suo carattere così duro però ha dato tanti insegnamenti alla Chiesa si è veramente prodigato per questa nostra Chiesa specialmente quella gelese e io lo ringrazio per tanti insegnamenti che ho avuto da lui lo ringrazio anche perché nel periodo della sua malattia ho imparato che cosa significa la sofferenza e come affrontare la sofferenza in un momento in cui la sofferenza ti prova e ti fa diventare una persona esclusa, lontana, messa da parte ho imparato l'umiltà in questi ultimi mesi da lui ti voglio bene e ti ringrazio per quello che mi hai dato Io in questi seti anni che l'ho conosciuto ho visto sempre un uomo molto attivo, intelligente per questo la sua morte così improvvisa mi è sembrato come una quercia che è stata abbattuta e questa quercia aveva sicuramente raggiunto il suo apice anche perché lui aveva tanti interessi l'interesse della pastorale per la città anche un interesse particolare l'attenzione al mondo giovanile ma anche un'attenzione che aveva verso tornando al discorso precedente dell'arte lui era il responsabile diocesano per l'arte sacra e anche per la costruzione delle nuove chiese ed è stato sempre molto attivo Il ricordo più tenere di Monsignore è stato quando si è insidato parro con la nostra amata chiesa madre si stiamo parlando dell'onda 1983 dove insieme a lui abbiamo fatto dei percorsi molto molto formativi sia dal punto di vista ecclesiastico sia dal punto di vista religioso sia dal cammino che ci ha fatto fare io sono stato un suo collaboratore come molti altri come dove lui oggi forse incontrerà ho già incontrato Emanuele Giudice noi eravamo quelli che lo collaboravano in tutto e per tutto per la settimana santa ma non solo la settimana santa ma anche la Maria dell'Alemanna ed è stato per me un padre, un insegnante morale mi ha formato uomo mi ha fatto capire cos'è la vita cos'è Dio, cos'è la chiesa mi ha fatto amare la chiesa più di quando già la amassi Gela perde un grande pilastro disagi idrici a Gela a seguito dell'interruzione dell'esercizio dell'acquedotto Blufi a partire da domani proprio domani è giovedì 20 ottobre non ci sarà distribuzione nella zona di Caposoprano domani non ci sarà distribuzione anche nella zona balneare di Marina di Butera ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni possono recarsi all'ospedale di Gela il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 per sottoporsi alla mammografia gratuita aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura delle sindrome mieloprofilerative divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e promuovere un'assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie sono stati i tre temi portanti del convegno scientifico sulle sindrome mieloprofilerative croniche e neoplasie ematologiche rare promosso a Gela dall'AIPAM territoriale BIOS preseduta da Giacomo Giurato l'evento internazionale è stato patrocinato dalla regione Sicilia e dal comune di Gela il soggetto che si rivolge a voi e scopre di avere una patologia grave al sangue che tipo di atteggiamento assume e qual è il vostro invece atteggiamento? Innanzitutto bisogna dire che la diagnostica delle malattie è cambiata notevolmente oggi abbiamo la capacità di identificare molto correttamente questo tipo di malattie e abbiamo delle terapie che agiscono in maniera specifica sugli meccanismi molecolari della malattia quindi quella che una volta veniva vista come un percorso ineluttabile verso la progressione di malattie oggi può essere gestita, interrotta, rallentata con delle nuove terapie che però richiedono un'alta specializzazione. Questo rappresenta comunque una grande speranza per i nostri clienti, per i nostri pazienti ovviamente. Quindi c'è molto ottimismo. Al convegno ha partecipato anche un gruppo di pazienti tedeschi guidati dal coordinatore nazionale per il rapporto con l'estero dell'IPAM, Peter Lerker. Questo gruppo di pazienti tedeschi ha voluto scegliere la nostra città per condividere con noi questo momento importante di scambio di informazioni scientifiche ma soprattutto uno scambio di emozioni, di sensazioni, di come ognuno di noi vive la malattia quindi lo scambio di queste informazioni aiuta moltissimo. Poi la presenza di luminari come il professore Barosi, il dottore Consoli, il dottore Accurso che è venuto da Palermo e gli amici di AIL che hanno voluto offrire questi opuscoli per i pazienti hanno reso ancora più importante questo convegno. Ma l'elemento più importante veramente di questo appuntamento è la presenza dei pazienti. Quali sono le nuove frontiere della scienza, della medicina per sconfiggere, fronteggiare queste patologie per poter dare una speranza a chi soffre di queste malattie? Sono i nuovi farmaci. In queste malattie abbiamo nuovi farmaci che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti hanno migliorato alcuni sintomi ma non sono ancora in grado di migliorare significativamente la sopravvivenza di questi pazienti. E quindi la speranza, lo sforzo che viene fatto è quello di sperimentare nuovi farmaci che possono chiaramente migliorare la sopravvivenza dei pazienti. E la seconda è usare anche in queste malattie il paradigma della medicina di precisione. È quella di usare le caratteristiche molecolari e genetiche del singolo paziente per tagliare sul singolo paziente la terapia. Relatori e partecipanti al convegno scientifico hanno visitato i beni archeologici di Gela. Perdonate se io faccio sempre poi delle escursioni in altri campi che è quello di far conoscere la città anche questo pur nell'argomento abbastanza particolare e triste però il fatto che venga affrontato qui da noi ci mette anche questo tra tanti altri argomenti in una posizione di affrontare questioni per guardare in alto e non guardare alle piccole cose purtroppo di tutti i giorni che ci attaragliano. E ora parliamo del primo meeting della FIDAS Sicilia una due giorni di approfondimenti e di confronto fra rappresentanti associativi e istituzionali sul sistema sangue regionale sui rapporti con i servizi trasfusionali e con le altre realtà associative. Primo meeting della FIDAS Sicilia una due giorni di approfondimenti e di confronto tra rappresentanti associativi e istituzionali sul sistema sangue regionale sui rapporti con i servizi trasfusionali e con le altre realtà associative. Si è svolto nel fine settimana al Sicania Resort. Tra i temi affrontati c'è stato quello relativo alla situazione e all'accreditamento con la razionalizzazione della red di raccolta associativa. Si è parlato anche dell'accordo Stato-Regioni del 14 aprile scorso con la stipula delle nuove convenzioni e dei rapporti associativi nel rispetto degli ambiti territoriali. Sono tantissimi gli obiettivi raggiunti dalla FIDAS perché tantissimi sono i donatori che nei momenti più drammatici della storia di questo paese hanno veramente dato una grossa mano per salvare delle vite umane. Oggi come oggi il percorso delle associazioni che FIDAS rappresenta sul territorio nazionale e in particolare delle associazioni presenti qui in Sicilia sono quelle di aver costituito un gruppo dei gruppi di donatori periodici responsabili e associati. Questo è l'aspetto più importante perché la donazione è un gesto gratuito, è un gesto anonimo ma deve essere fatto con la consapevolezza che attraverso questo materiale biologico si fornisce appunto una terapia per i cittadini, chiunque ne abbia bisogno e i numeri ci confermano l'importanza di questo gesto. All'incontro sono stati presenti i vertici nazionali, regionali e locali della FIDAS. Il contributo del volontariato è assolutamente prezioso e indispensabile soprattutto in un'altra realtà come la nostra laddove l'80-85% degli emocomponenti driver, quindi mi riferisco soprattutto alle mazzie concentrate che sono quelle che noi utilizziamo per trattare i pazienti anemici e vengono raccolte dalle associazioni dei donatori volontari. Rappresentano lo strumento attraverso il quale vengono promossi poi quei valori solidaristici della popolazione generale che consentono di curare i pazienti assistiti. C'è anche un confronto con le istituzioni per verificare, nel nostro caso, quindi nel quanto riguarda la FIDAS Adas Gela, la possibilità di riaprire i centri di raccolta di potere di Mazzarino che sono chiusi, ahimè, da oltre un anno, da quasi un anno e mezzo. Il fatto di poter riaprire questi centri consentirebbe all'unità ospedaliera di Gela, al presidio ospedale di Gela e comunque, però con le competenzioni a tutti gli ospedali della Sicilia, di poter avere delle sacche da poter lavorare, da poter destinare alle persone bisognose, le persone che hanno bisogno. Questa comunque è la cosa principale. Ne approfitto attraverso i vostri microfoni di ringraziare i donatori Adas che sono molto vicini. La nostra unità di raccolta è sempre piena di donatori e non posso fare altro che ringraziare il grande cuore dei gelesi. Domani alle 18 presso la sala conferenze della Banca del Nisseno, ex palazzo delle poste di Via Crispi a Caltanissetta, Henry Bresch, professore dell'Università di Parigi e tra i più autorevoli studiosi di storia medioevale siciliana, Ferdinando Maurici, direttore del Museo regionale di Terrasini ed Elisa Bonacini dell'Università di Catania, presenteranno itinerari di pietra, viaggio tra paesaggi e castelli al centro della Sicilia. La pubblicazione è redatta allo scopo di porsi come guida concreta, chiara ed efficace per promuovere e valorizzare le numerose architetture fortificate presenti sul territorio Nisseno, all'obiettivo di individuare e promuovere un itinerario storico, turistico e culturale di fruizione e conoscenza della ricco patrimonio architettonico e paesaggistico della Sicilia centro-meridionale. Il volume, a cura di Fabiola Safonte, raccoglie i contributi di storici e archeologi di fama internazionale, in cui si aggiungono le splendide fotografie di Pippo Nicoletti. Domani sarà presente, tra gli altri, Gianluca Miccichè, assessore regionale alle politiche sociali. Sarà presentato venerdì 21 ottobre prossimo alle 17.30, presso l'ex chiesetta di San Biagio a Gela, il libro Tantum Manité, scritto da Renato Colodoro. Dialogherà con l'autore e il giornalista Domenico Russello. L'iniziativa è della libreria Mondadori. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiane riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in tetrapack vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e nonna, buste, sacchetti zucchero e farina, scioper in carta, tovaglie in carta non unte, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche, senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Seconda parte del telegiornale, rieccoci che apriamo parlando della crisi da sovraindebitamento. Il Comune di Gela istituirà nei prossimi giorni, nell'area del SUAP, uno sportello con la consulenza gratuita di un team di esperti, commercialisti e avvocati. Contro la crisi da sovraindebitamento, il Comune di Gela istituirà nei prossimi giorni, nell'area del SUAP, uno sportello con la consulenza gratuita di un team di esperti, commercialisti e avvocati. E' quanto deciso ieri pomeriggio al termine dell'incontro che si è svolto in municipio. Il sindaco Domenico Messinese ha sottoscritto una convenzione con Loredana Raneri, presidente della società di servizi di tutela legale e finanziaria Presidium, la quale ha sottolineato l'obiettivo di voler diffondere una nuova cultura contro la crisi. L'intesa prevede l'istituzione di un front office di sostegno e tutela per imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti o semplici consumatori sulla base della legge del 2012 per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Approfittiamo della possibilità che ci viene data dalla legge dello Stato, ma soprattutto dalla buona volontà di persone attive nel territorio che consentiranno di poter aprire questo sportello di supporto a tutti i cittadini che si trovano in difficoltà. Un modo per chi è che si trova in una situazione sicuramente di disagio economico dove si può trovare una via di uscita per superare un momento difficile in cui magari si fanno a trovare considerando il momento contingente economico difficile della nostra città. C'è l'area di crisi complessa, c'è l'area di crisi del lavoro, c'è l'area di crisi delle prospettive, un duro lavoro ci attende per superare tutte queste problematiche. Questi sono degli strumenti che al momento ci consentono di poter dare delle risposte immediate, ma sicuramente il futuro di Gela deve partire con il rilancio dell'economia, con il rilancio della progettualità, con il rilancio delle potenzialità nel nostro territorio. Questo è un nostro obiettivo primario, stiamo lavorando per poter finalmente parlare di futuro industriale, futuro dell'agricoltura, futuro del turismo, futuro dell'economia su un territorio che per troppo anni invece ha parlato solamente di dismissioni, di smantellamento, di decommissioning, quindi dobbiamo invertire il modo di vedere il nostro futuro e attualmente questo è uno strumento che ci consentirà di poter fare questo passaggio. Il rapporto con la società Presidium è nato lo scorso mese di febbraio in occasione di un convegno su crisi finanziaria e possibile via di uscita promosso anche dalle situazioni di categoria a Gela. Noi cerchiamo di venire incontro a tutti coloro uguali si trovano in situazioni da monitorare per quanto riguarda i debiti e uscire appunto dalla crisi personale e gestire meglio tutto quello che è il mondo bancario, tributario, situazioni debitorie di pari o genere. Sono aperte le iscrizioni dell'anno accademico 2016-2017 all'Unitre, l'Università delle Tre Età di Gela preseduta da Angela Scaglione Altamore. I corsi attivati sono storia e filosofia, naturalmente letteratura, giornalismo, informatica, lingua francese e inglese, arte e architettura nel Rinascimento, laboratorio di arte creativa, la poesia ermetica ed erotica in Italia, storia patria, corso di medicina generale ed educazione fisica e ballo. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 nei locali del liceo Eschilo di Gela per le iscrizioni rivolgersi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.30 presso lo stesso istituto scolastico. Anche quest'anno la pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gela organizza un corso per soccorritori di livello avanzato per il servizio sulle ambulanze. È possibile recarsi presso la sede di Viosidiana 23 per iscriversi e avere informazioni in merito alla formazione. Il corso si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21. Sono 40 gli appuntamenti previsti e 75 le ore di tirocinio obbligatorie. Le lezioni saranno ottenute da personale medico, paramedico e da soccorritori esperti. Il corso comprenderà lezioni teoriche, pratiche e un periodo di tirocinio. La segreteria della pubblica assistenza Procivis è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20. Per informazioni è possibile contattare la centrale operativa allo 0933 93 83 12 oppure inviando una mail a p.a.procivis.it Parte anche in Sicilia il progetto Mimosa una campagna di sostegno e prevenzione contro la violenza sulle donne promossa dal Ministero della Salute. Giù le mani una donna non si tocca neanche con un fiore lo slogan dell'iniziativa presentata all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta. A fare gli onori di casa Mariella Ippolito delegata regionale della FOFI la Federazione Ordine Farmacisti Italiani che ha voluto fortemente che anche la Sicilia aderisse al progetto. Saranno infatti le farmacie dell'isola così come è avvenuta a Napoli e a Roma grazie anche al supporto dell'assessorato regionale Famiglie e Politiche Sociali a scendere in prima linea per aiutare tutte quelle donne che hanno subito violenze fisiche e psicologiche. Noi siamo farmacisti e sicuramente la farmacia è un posto dove il paziente va e si fida e si affida al farmacista. Quindi noi speriamo di aiutarli in tutta Italia perché l'informazione anche la sola informazione potrà sicuramente aiutare le donne quando hanno un problema di violenza. Tutti i centri antiviolenza vengono messi in rete dalla Vision che è l'osservatorio di vittimologia internazionale dove c'è il presidente Ferdinando Tramontano che provvede a mettere in rete i centri di tutta Italia. Questa è la cosa importante. Ecco perché il progetto Mimosa devono andare in tutta Italia. Un fenomeno crescente è quello delle violenze sulle donne. Si stima che le vittime in Italia siano 7 milioni. Di queste circa 746 mila donne hanno subito un tentativo di stupro. Da qui la necessità di fornire informazioni utili consigli e contatti di associazioni centri antiviolenza e specialisti attraverso brochure che saranno distribuite in tutte le farmacie della Sicilia. Un progetto che a livello regionale sarà coordinato dalla farmacista Barbara Iraci nonché referente per Caltanissetta. I farmacisti non potevano mancare a questo appuntamento perché i farmacisti sono stati sempre a fianco del cittadino e questo è uno spunto maggiore per sottolineare maggiormente questo ruolo professionale dei farmacisti che conoscendo essendo il farmacista un operatore sanitario di quartiere oltre nelle grandi aree cittadine o nei piccoli paesi essendo l'unico operatore sanitario sempre presente 24 ore su 24 365 giorni all'anno di giorno e di notte conosce le abitudini di tutte le famiglie e quindi riesce a percepire i problemi che possono esserci all'interno di una famiglia e quindi noi ci siamo e ci saremo in tutto il progetto lo seguiremo in prima persona una messa in suffraggio in ricordo del 54esimo anniversario della morte di Enrico Martei si darà giovedì 27 ottobre prossimo alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella a Gela subito dopo verrà deposta una corona di alloro ai piedi del busto di Martei che si trova in Viale Corte Maggiore l'iniziativa della associazione Pionieri e Vedrani Eni di Gela presieduta da Giuseppe Lisciandra la pagina del cinema appuntamento col cinema all'antidoto di Macchitella a Gela e in proiezione il film Go With Me sono due gli orari della programmazione 19.30 e 21.30 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a Gela a Gela a Gela Grazie a tutti